salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo all'ultimo giorno di allenamento per questa settimana alleneremo ovviamente gli addominali faremo tre serie per allora innanzitutto gli esercizi li improvviserò tutti comunque farò tre serie per ogni tipo di addominale ovvero alto completo e basso e laterali ovviamente come primo esercizio andremo a fare i setup ragazzi faremo i setup sul tappetino ci prenderemo 5 kg un disco da 5 kg così e faremo tre serie per 15 20 ripetizioni poi grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come secondo esercizio andrò a fare il plank con bicicletta laterale. Faremo due secondi di plank e un colpo di bicicletta per lato. Tutto questo per 10-15 volte. Grazie a tutti. 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 Che è un esercizio durissimo. Fa malissimo. Forse non mi crederete ma è così. Allora come terzo esercizio per addominali bassi faremo faremo il reverse crunch ragazzi. Faremo tre serie per 15-20 ripetizioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.